Questi gruppi hanno un'origine talmente diversa da rendere difficile il pensare che siano gruppi che hanno una loro omogeneità e una loro identità ideologico-culturale. Dal punto di vista dei cattolici poi ci sarebbe da riflettere su una cosa. Si è fatto tanto parlare dell'inserimento, o meglio del mancato inserimento, del riferimento alle radici cristiane nel preambolo della Costituzione europea. Forse sarebbe stato anche il caso di interrogarsi un po' di più se all'interno del Parlamento europeo valeva la pena di avere un vero raggruppamento di ispirazione democratico-cristiana, che avrebbe potuto poi difendere meglio certe idee. Il fatto che un certo tipo di valori cattolici vengano difesi da persone che col cattolicesimo non hanno nulla a che fare mi lascia sempre un po' perplesso. Grazie. Grazie. Grazie.